Ciao a tutti, proviamo a rispondere a questa domanda. Allora, trovare 10 numeri consecutivi, ovviamente interi, la cui somma, per esempio, è 105. Ma possiamo scegliere un qualsiasi altro numero, il modo di procedere è sempre uguale. Allora, come si procede? Allora, se i numeri sono consecutivi, e sono 10 di questi numeri, ci sarà quello più piccolo o quello più grande. Allora, se indichiamo con n il numero più piccolo, il secondo numero sarà quello dopo, quindi n più 1. Poi abbiamo n più 2, poi abbiamo n più 3. Questo è il quarto numero, quindi primo, secondo, terzo, quarto. Quando arriviamo all'ultimo numero sarà n più 9, quindi in tutto sono 10. Questa somma deve fare 105. Ora, vediamo che questa è una semplice equazione di primo grado. Come la possiamo risolvere? Allora, n è generico e in tutti i numeri compare n. Sono 10 numeri, quindi ci sarà 10 volte n. Più. Cosa rimane se tolgo n, 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 n. Questa somma deve dare 105 e osserviamo che questa è la somma dei primi nove numeri. Ora, io so che la somma di K per K che va da 1 a n, quindi la somma dei primi n numeri, quindi K, K più 1, K più 2 non è altro, quindi 1 più 2 più 3 fino a n non è altro che n per n più 1 diviso 2. Quindi questa somma devo fare 9 per 10 n più 1 diviso 2. 90 diviso 2 fa 45. Quindi se questa somma è 45 avrò che 10 n più 45 è uguale a 105. n devo fare 105 meno 45 diviso 10 e viene 6. Quindi viene 105, tolgo 5, viene 100, tolgo 40, 60 diviso 10, 6. Quindi la sequenza cercata è 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11 più 12 più 13 più 14 più 15. E questa somma è proprio 105. Ora, questo ragionamento lo possiamo estendere a qualsiasi somma con qualsiasi sequenza formata da un certo numero di numeri consecutivi. Per esempio, se supponiamo di voler trovare 15 numeri consecutivi 15 numeri consecutivi, la cui somma supponiamo è 525, un numero a caso. Allora, cominciamo con n, poi devo sommare n più 1 fino a n più 14. E sono 15 numeri. Questo deve fare 525. Ora bisogna vedere se, diciamo, è divisibile per 15 questo numero. Allora, questo sarà questo sarà 15n più la somma dei primi 14 numeri, quindi sarà 14 per 15 diviso 2 e questo deve fare 525. Abbiamo quindi 15n più 14 per 15 diviso 2 fa 105 uguale 525 quindi ciò 15n uguale 525 meno 105 420 ora se 420 risulta divisibile per 15 esiste la soluzione altrimenti no se io faccio la divisione trovo diviso 15 trovo 28 questo è il più piccolo numero della sequenza di 15 numeri quindi 28 quindi saranno 28 quindi i numeri saranno 28 più 29 più 30 quindi la sequenza sarà da 28 più 29 più puntini puntini fino a 42 e se fate la sprova è proprio 525 fate per conto vostro altre prove un saluto